Il boom del tennis, la vittoria di Siner a livello internazionale hanno riportato l'attenzione su questo sport. Quali sono le ricadute nel territorio del canadese? Per saperne di più e conoscere anche questo ambiente abbiamo intervistato Stefano Guglielmenti di T.C. Laghi e Valperga. E' una droga eh? E' come il sport quando ti appassiona. Ti appassiona, ti dia voglia di essere finita la partita. Sì, un'altra. Quando, quando? Ancora 10 minuti? Quarta d'ora? No, 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 quello è il bello comunque già un pochettino in generale dello sport in generale. Assolutamente. L'appuntamento è per martedì 13 febbraio alle ore 21 su ON TV World. L'appuntamento è per martedì 13 febbraio alle ore 21 suoi.